Abbiamo detto con il presidente di Labbio, cuore batti cuore, una partita che non finiva mai. È stata lunga oggi, è stata lunga e dobbiamo accorciarla perché quando vai su un doppio vantaggio fuori casa contro una squadra ben organizzata sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo aspetto nella gestione e soprattutto andare a concludere le situazioni che hai creato e magari chiudere prima anche la gara. Poi è ovvio che se concedi qualche missione, qualche fallo, qualche episodio, riapri la gara loro sono stati bravi poi gli ultimi 7-8 minuti a fare un arrembaggio e noi siamo stati meno bravi a gestirla e hanno sfruttato quel calcio di punizione laterale che ovviamente non deve accadere e poi ovviamente diventa complicata perché gli ultimi minuti sono stati sicuramente da batti cuore. Ecco, bagarre completa, poi c'è stato anche quel tiro che ha colpito il palo, anche l'altro palo loro hanno protestato molto perché l'hanno vista dentro, lei dalla panchina cosa ha visto? Guarda, io non ho avuto la sensazione che la palla sia stata dentro però ovviamente stasera magari al rallenti è molto più semplice ovvio che le squadre poi cercano di dare tutto e loro ci hanno provato poi l'arbitro ha detto che la palla non è entrata quindi ma io non mi soffermerei a questo episodio mi soffermerei al fatto che sul 3-1 noi abbiamo gestito meno bene rispetto al primo tempo la gara e invece dobbiamo chiuderla. Primo posto, arrivano le vertigini, adesso ci sono due gare interne consecutive, potete insomma spiccare il volo? Adesso è precoce parlare di primo in classifica, secondo, terzo noi dobbiamo cercare di costruire sempre di più, cose migliori di far crescere quello che è il collettivo di far crescere la squadra in quello che è le sue prestazioni generali sotto tutti i profili e andare avanti per la nostra strada. Un'ultima domanda riguarda anche le scelte iniziali è una scelta tecnica quella di aver fatto giocare al posto di Cordova Casciano che comunque aveva già dimostrato di poter essere un titolare. Ah no, io alla fine ho la consapevolezza di avere dei ragazzi che quando vengono chiamati in casa danno il loro contributo. Casciano nelle ultime due partite è entrato molto bene oggi mi serviva un giocatore con quelle caratteristiche e l'ha interpretata bene la gara e il ragazzo e sono contento della sua prestazione ma così come Casciano come tanti altri che adesso stanno trovando un po' meno spazio ma so che nel momento in cui ne avrò bisogno risponderanno presenti.